Lancerò questa monetina, se uscirà verde sarò buono, se uscirà rossa saranno c***o i vostri. Sarà il fato a scegliere la personalità con cui io vi risponderò. Bomba Mauri, mi avrei questo problema che mi porto dietro da qualche mese, cioè a volte balbetto. Non so come risolvere questo problema, magari l'ansia o altri fattori, però mi dà un po' fastidio. Cosa posso fare? Attenzione! Alessandro, stai zitto. Se non parli non balbetti. Stai zitto. Ciao Mauri, è veramente bellissimo farti un audio e ti chiedo consigli per l'autostima o per la depressione? Non deprimerti, guarda dei conigli che corrono, che c***o misoglio. E per l'autostima? Non guardare i miei video.